Siamo arrivati all'undicesimo film dell'universo di Harry Potter e al terzo con protagonista il nostro simpatico magizoologo Newt. Sarà all'altezza della saga? Partiamo! La prima domanda che mi sono posto pensando di andare a vedere questo film è stata se questa saga e questo prequel avesse ancora da dire qualcosa. Personalmente ho sempre ritenuto questa saga molto valida perché è costruita bene e che è riuscita a creare un universo coerente che permettesse allo spettatore di empatizzare e soprattutto di passare qualche ora di distrazione, senza troppe pretese, ma anche senza mai essere troppo banale. Dopo queste mie esternazioni direi che potete già mettere un bel like e iscrivervi al canale. No, lo dico perché prima o poi magari potrei dire qualcosa che non vi piacerà, quindi devo massimizzare le visualizzazioni. Ritornando ad Animali Fantastici Segreti di Silente, quindi avevo un'aspettativa moderata, visto che non sono certo un fan della saga, che va a cercare il pelo nell'uovo di Pasqua. Quindi mi sarà piaciuto. Ok, ok, calma, ora ve lo dico. Indubbiamente questo Animali Fantastici Segreti di Silente mi è sembrato un film girato bene, con una bellissima fotografia e tante belle idee. Insomma, sono uscito dal cinema dopo poco più di due ore soddisfatto e contento di aver speso quei 5 euro. Io difficilmente vado nelle serate a prezzo pieno, ma sono uscito anche un po' assonnato e soprattutto domandandomi se non avessero fatto delle modifiche all'ultimo, vista la situazione mondiale attuale. Fatemi spiegare un attimo prima di tacciarmi di fare propaganda. Questo film è ambientato prevalentemente in Germania, con alcune capatine in Brasile, Brooklyn e nel Bhutan, nel periodo dell'ascesa nazifascista di metà anni 30 del secolo scorso. Quel periodo pieno di conflitti, esaltazioni e assolutismi che ha portato al potere personaggi che poi hanno fatto quel che ben sappiamo, distruzione, sterminio e povertà. Tutto questo passaggio è riportato anche nell'ambiente magico di animali fantastici, con i dovuti modi e senza renderlo pesante per lo spettatore. Direi un ottimo risultato, ma la mia domanda è se non si sia tentato di fare anche un passo in più, cioè quello di attualizzare la situazione di tensione economica e militare di questi ultimi mesi. I bagni di folla esaltante e plagiata ovviamente dalla propaganda ne sono per me l'esempio lampante. Forse però sono stato solo io a rivedere certe situazioni e mi chiedevo se non fossi stato l'unico. Usate quindi i commenti per dirmi la vostra. Precedentemente ho detto di essere uscito un po' assonnato dal cinema. Il motivo è presto detto. Io lo sottolineo da mesi e pare essere però una moda di Hollywood. In realtà è una commissione di due fattori. Il primo è l'eccessiva lunghezza delle pellicole senza portare seri dettagli o sviluppi alla trama, tanto per capirci piani sequenza di panorami, il soffermarsi su dettagli di dettagli mentre attori non fanno nulla, adottando una regia lenta e riflessiva quando la trama è piatta come una cartolina svoltata. Praticamente è come mettere del volume per rilassarsi nella camomilla. Il secondo fattore che crea stanchezza alla visione è l'assurda fotografia scura, desaturata, priva di vita ed emozioni che sta spopolando come se fosse un mantra per essere un buon regista. La mia domanda per voi è solo una, ma li avete visti Dune di Dennis Vinnevo? Anche solo l'italianissimo Freaks Out di Maenetti? I giochi di luce, i colori che danno spessore e tridimensionalità alla pellicola? Ecco, allora smettetela di volerci propinare questo volume nei vostri film e iniziate ad aprire un po'. Non dico di smarmellare, ma aprite un po'. Poc'anzi ho definito la trama come una cartolina svoltata e ora aggiungo pure Bianca, perché manco ci hanno scritto nulla sopra. Una trama banale in cui i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi e non c'è promiscuità. Non ditemi poi che Queenie e Credence siano quelle sfumature, perché no, 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 proprio no. Sono semplicemente dei plagiati che fanno il loro percorso di comprensione e redenzione. Vi ricordate che ho detto anche che il film mi era piaciuto? Ed arriviamo a quello che veramente ha meritato e che ha tenuto su tutta la baracca. I personaggi, non tutti ovviamente, ma alcuni personaggi sono così ben fatti e recitati che porca miseria hanno tenuto su tutto il film. Su tutti ovviamente Silente, interpretato da Jude Law, e Kowalski, interpretato da Dan Flager. Sono i due personaggi in cui ho percepito nessuna sbavatura, che sono stati approfonditi benissimo e recitati ancora meglio. Hanno dato spessore a situazioni e momenti anche comici, che altrimenti sarebbero stati fin troppo lenti e banali. Altro buon risultato è stato tenuto con Newt, in cui Eddie Redmayne sembra proprio a suo agio. E ovviamente Grindelwald, interpretato da Mad Mikkelsen, che non è e non era più Johnny Depp, per gli ovvi motivi politici di Hollywood. Nulla è stato detto riguardo a questo cambio di fisionomia nel film, ma personalmente non ne ho sentito il bisogno. E il Grindelwald di questo film l'ho trovato veramente convincente e ben recitato, anche se è un cattivo dei poveri, che vuole basare la sua ascesa sull'illusione e il plagio delle masse, che invece sul terrore che ci si aspetterebbe da un personaggio così. Fra l'altro un cattivo che per tutto il film è detta alle regole e che ha organizzato una vera e propria partita di scacchi con Silente, ma che non ha un cavolo di piano B quando viene banalmente smascherato. A parte questo, quando sono sullo schermo Grindelwald e Silente assieme, sono i momenti migliori in cui tutto va una spanna sopra il resto e ti prende e ti emoziona, anche se non accade chissà cosa. Quello che invece mi ha convolto e convinto come un operatore di call center che ti propone una nuova tariffa elettrica è stata la sottotrama amorosa di Newt e il finale a Brooklyn. Invece hanno funzionato bene anche gli animali, finalmente tornati più presenti e centrali, con scene d'azione e una danza per la salvezza che mi ha fatto troppo ridere. Tutti gli animali, poi sempre con un lato pucciosetto, ha anche quelli che invece sarebbero cattivi. Questa volta preferisco fare un breve video, quindi niente spoiler alla fine, solo le mie personali conclusioni e suggerimenti di visione. Intanto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con le mie pubblicazioni. Lasciate anche qualche commento che mi fa sempre piacere sapere voi cosa pensate. Se voi mandate anche questo video alle vostre conoscenze, beh, avrete tutta la mia gratitudine. Per concludere su Animali Fantastici Segreti di Silente voglio consigliarlo a tutti, ma meglio se ad un pubblico più verso l'adolescenza, non così bambino insomma, e quindi perché deve essere pronto ad attimi più cupi e complessi. Un film che si regge bene e che non crolla così tanto rispetto ai precedenti. Potrebbe però rivelarsi una non vittoria per la produzione, visto quanto poco sta incassando in rapporto alle spese. Io spero che ci sia un quarto film perché, come dicevo, intrattiene senza troppe pretese ed è fruibile da un pubblico molto ampio. Non sono voluto entrare poi nelle polemiche per alcuni accenni a personaggi futuri apparsi a famiglie di maghi famose. Ritengo polemica per i fan più sfegatati e comunque qualche incongruenza o imprecisione può sempre verificarsi e non è un problema di suo, ma va valutato il livello di spocchia con cui lo si fa e qui è effettivamente bassissimo. Direi che è il momento di salutarci e al prossimo video. Ciao!